Ben trovati, ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it quest'oggi vedremo due funzioni molto importanti per chiunque abbia a che fare con il montaggio audiovisivo a prescindere che voi lavoriate con Adobe Premiere, Avid o qualunque software di montaggio ciò di cui parleremo quest'oggi è traducibile pressoché qualunque software di montaggio oggi vedremo come si tagliano le clip una volta portate dentro la timeline prima però di procedere vi ricordo il mio sito internet www.fabioambrosi.it sito dove troverete non soltanto i video tutorial che state vedendo qui su YouTube ma anche articoli che in qualche modo sintetizzano quello che ci diciamo in queste chiacchierate virtuali vi ricordo anche, vi consiglio anche, di iscrivervi al mio canale YouTube per non perdere nessun tutorial di prossima uscita e se vi fa piacere mettete un like anche alla mia pagina Facebook cercate FabioAmbrosi e mettete un like se avete voglia ma passiamo subito ad Adobe Premiere e iniziamo con la lezione di oggi eccoci tornati in Adobe Premiere il nostro software preferito per montare contenuti multimediali nella scorsa lezione abbiamo visto come portare le clip dal monitor di anteprima direttamente dentro la timeline abbiamo visto la differenza tra il punto e la virgola tra l'overwrite e l'insert abbiamo capito perché sono così importanti e abbiamo iniziato a scoprire quando utilizzare l'uno e quando utilizzare l'altro non vi preoccupate nelle prossime lezioni quando faremo qualche esempio un pochettino più pratico capirete meglio quest'oggi vedremo come tagliare una clip una volta portata all'interno della timeline allarghiamo un pochettino la timeline in maniera tale da vedere bene quello che stiamo per fare ed oggi lavoreremo sostanzialmente qui dentro allora come ho detto già all'inizio di questo corso alla fine lo scopo di un montatore video è quello di organizzare il materiale multimediale all'interno della timeline in modo da dare forma a quello che è il contenuto che vogliamo creare sia che voi stiate montando il filmino delle vostre vacanze sia che voi stiate preparando un documentario o un film tutto avviene all'interno della timeline un po' come i lego avete presente i mattoncini dei lego ecco voi mettendo insieme tanti tasselli alla fine vi ritrovate con una struttura anche molto complessa ecco la stessa cosa andremo a fare con Premiere spostando, tagliando, accorciando, allungando questi mattoncini e noi andremo a creare il nostro contenuto multimediale una volta portati in timeline questi elementi vanno spostati, vanno tagliati eccetera eccetera tra due lezioni vedremo un po' più nel dettaglio come muovere questi oggetti come muoverli con ordine senza fare danni all'interno della timeline oggi vedremo come tagliare questi oggetti come modificarne la durata in qualche modo come riorganizzarli intanto bisogna fare subito una premessa e bisogna dire che quando si parla di montaggio video si utilizzano spessissimo due termini il termine cut e il termine trim tradotte in italiano queste due parole inglesi significano entrambe tagliare ma hanno in sé delle differenze importanti quando parliamo di cut, di taglio ci riferiamo proprio all'operazione di prendere un elemento e bam dividerlo in due come ho fatto adesso vedete io ero un elemento unico e adesso mi ritrovo con due elementi separati questo è il cut il taglio se possiamo definirlo in questo modo il punto in cui andiamo a fare il taglio viene chiamato punto di montaggio e lo riconoscete perché in Premiere c'è una linea verticale che ci fa capire che questa clip non è più unica come era in origine ma è divisa in due parti in origine era così non c'era assolutamente niente a separare questa clip dopo il taglio bam ci ritroviamo sostanzialmente con due clip in questo caso ho tagliato soltanto l'audio posso tagliare anche il video ecco qui e mi ritrovo con due blocchettini separati e distinti che quindi potrò muovere e spostare in maniera completamente autonoma l'uno dall'altro questo per quanto riguarda il cut l'altro termine utilizzatissimo nel mondo del montaggio è invece la parola trim trim significa lo stesso modo taglio to trim tagliare però in questo caso non ci riferiamo all'operazione da sarto di prendere con le forbici questo elemento e tagliarlo in due parti ci riferiamo piuttosto a quello che fanno i barbieri o i parrucchieri avete presente quando andate a tagliarvi i capelli voi non prendete un capello e lo tagliate in due ma andate ad accorciare i capelli oppure ad allungare i capelli con le extension le signore sapranno meglio di me di cosa sto parlando bene quando parliamo di trim in premiere ci riferiamo esattamente alla stessa cosa l'operazione di trim il trimmare una clip significa prendere un elemento e accorciarne la durata o allungare fin dove chiaramente il materiale è disponibile la durata originale ecco questo è il trim ed esistono vari strumenti per lavorare con il trim in questo video tutorial vi insegnerò come fare un cut quindi come tagliare come un sarto prende le forbici e taglia in due un pezzo di stoffa noi allo stesso modo prenderemo le nostre forbici virtuali e andremo a tagliare in due il nostro elemento che sia esso un video una fotografia una grafica o un audio poco importa qualunque elemento all'interno della timeline può essere diviso ok? come sempre vi ho insegnato in questi video tutorial in premiere esistono diversi modi per tagliare una clip il modo più semplice forse e più immediato per chi abbia voglia di dividere in due un elemento è selezionarlo quindi in questo caso per esempio io mi seleziono sia la traccia video sia la traccia audio posizionare il cursore temporale nel punto esatto in cui voglio effettuare il taglio e premere la combinazione di tasti sulla tastiera CTRL K premendo i tasti CTRL K sulla tastiera dopo aver selezionato gli elementi o l'elemento da tagliare bam andrò ad effettuare un taglio verticale esattamente come un sarto prende le forbici e via da un taglio netto ai nostri elementi come vi ho detto possiamo tagliare non soltanto più elementi ma possiamo tagliare anche un elemento singolo io seleziono solo questo blocchettino di video posiziono il cursore nel punto in cui voglio effettuare il taglio premo ancora CTRL K bam e ho effettuato un taglio vedete che a questo punto io non ho più due elementi ma addirittura ne ho tre ed eravamo partiti da un elemento che teoricamente era unico ok? faccio un altro esempio più complesso prendiamo questa clip la duplico vi dirò poi nelle prossime lezioni come sto facendo non vi preoccupare sono cose che vedremo meglio più avanti ecco io in questo caso ipotizziamo ipotizziamo che io abbia tutto questo castellino di elementi messo uno sopra l'altro e ipotizziamo che io voglio tagliare tutto esattamente in questa posizione dove si trova il cursore temporale io seleziono tutti gli elementi che voglio tagliare premo i tasti CTRL e K sulla tastiera bam ed effettuo un taglio verticale in questo momento ho suddiviso ancora questi blocchi in due parti ipotizziamo ancora che io abbia intenzione di tagliare soltanto questi due blocchettini superiori ok? quindi uno e due e abbia intenzione di dividere questi due blocchettini in due parti come fare? li seleziono entrambi o con il mouse trascinando oppure cliccando sui singoli elementi tenendo premuto il tasto della tastiera maiuscolo ok? e ancora premo i tasti CTRL K boom e sto tagliando soltanto questi due elementi in due parti vedete che quello che è sotto rimane sostanzialmente integro per non parlare dell'audio che abbiamo tagliato soltanto all'inizio e che è rimasto praticamente immune dalle mie operazioni di come si chiamava Edward mani di forbice sì dai era lui quello che andava con due mani con due forbicioni al posto delle mani ecco noi abbiamo risparmiato l'audio da questa operazione di taglio selvaggio questo per quanto riguarda il cut tramite la combinazione di tasti CTRL K questa forse è la tecnica migliore perché? perché è precisa no? ipotizziamo che voi dovete andare a fare un taglio esattamente su un frame ok? posizionate il cursore premete i tasti CTRL K e tagliate come vi dicevo c'è un altro modo per effettuare tagli in Adobe Premiere e questa seconda strada prevede l'utilizzo dei tools di Premiere degli strumenti di Premiere li vedete qui dove sto passando adesso con il mouse sono tanti strumentini che ci servono per lavorare all'interno della timeline però in questo tutorial noi ci occuperemo soltanto di quello strumento che ci permette di tagliare le clip in più parti ecco se voi vi posizionate con il mouse sopra questo strumento la metta vedete che è il quarto strumento a partire dall'alto vedete anche che c'è una lettera dopo il nome strumento la metta ed è il tasto C di Como vedete? premendo il tasto C di Como voi attivate lo strumento la metta è la stessa cosa che premere direttamente con il mouse potete scegliere o utilizzate la tastiera o andate con il mouse e cliccate sopra lo strumento la metta io come sempre vi ricorderò preferisco utilizzare la tastiera perché è lo strumento più rapido per fare operazioni in Premiere comunque sia che voi clicchiate sopra lo strumento la metta sia che voi premiate il tasto C di Como per attivarla quando tornerete con il mouse sopra la vostra timeline vedrete che la forma del mouse è cambiata ed ha assunto proprio la forma di una lametta cosa vuol dire? vuol dire che a questo punto con il mouse trasformatosi in una lametta posso cliccare dove voglio ed effettuare dei tagli per così dire al volo ecco in questo momento sto dividendo questi elementi esattamente nel punto in cui passo sopra con la lametta e clicco ok? posso dividere l'audio posso dividere un elemento video posso dividere quello che voglio dicevo che questo è uno strumento poco preciso perché io adesso sto con lo zoom praticamente al massimo vedete qui in basso ho messo lo zoom al massimo e quindi posso fare un taglio più o meno preciso però su una timeline molto grande molto complicata capite bene da soli che andare a tagliare con precisione millimetrica quello che voglio può risultare complicato quindi lo strumento CTRL K per fare un taglio è sicuramente da preferirsi però insomma ognuno utilizza il metodo che preferisce poi ci sono casi e casi che solo l'esperienza potrà insegnarvi a distinguere per tornare però allo strumento selezione perché se io resto con lo strumento lametta acceso continuerò sempre a dividere clip ogni volta che clicco con il mouse per tornare allo strumento selezione basta cliccare appunto sullo strumento selezione come potete vedere è il primo tool di questo pannellino ecco clicco sopra e vedete che ho riattivato lo strumento tradizionale di selezione che è chiaramente lo strumento di default in Adobe Premiere come sempre vi ricordo anche i tasti di scelta rapida da tastiera per attivare la lametta abbiamo detto il tasto C di Como per tornare indietro allo strumento selezione il tasto di scelta rapida è la lettera V di Verona li avete vicini sulla tastiera tasto C per attivare la lametta tasto V per riattivare lo strumento selezione quindi in questa lezione abbiamo visto come tagliare un elemento multimediale all'interno della timeline di Adobe Premiere nella prossima lezione impareremo come funziona il trim come ho detto è l'operazione che può essere paragonata a quella di un parrucchiere o di un barbiere che va a tagliare i capelli o va ad allungare i capelli con la extension vedremo come è possibile allungare una clip o accorciarla a seconda delle nostre esigenze iscrivetevi al mio canale youtube per restare sempre aggiornati sui prossimi tutorial venite a trovarmi sul sito www.fabioambrosi.it perché lì troverete degli articoli riassuntivi di queste lezioni con tutti i tasti che sto elencando in questi video tutorial e se vi fa piacere ovviamente vi aspetto anche sul mio canale facebook sulla mia pagina facebook cercate Fabio Ambrosi e mettete un like se vi fa piacere commentate questo articolo questo video meglio ancora se avete domande se avete bisogno di chiarimenti o se ho dimenticato qualcosa che volete tranquillamente chiedere e ci vediamo nel prossimo video tutorial ciao